Contrastare l'abbandono dei rifiuti intorno ai garbi e le isole ecologiche agevolando nel conferimento da parte di cittadini e turisti in centro storico e nelle prime periferie nasce con questo obiettivo dalla sinergia di sistema ambiente comune la nuova app OpenItLuca, uno strumento che vuole semplificare la fruizione del servizio di raccolta differenziata disincentivando il fenomeno dei conferimenti scorretti. Alla tessera che manterrà inalterata la sua funzione si affianca quindi OpenItLuca, una app facilmente utilizzabile che consente di avere sul proprio smartphone le funzionalità e gli strumenti necessari per l'apertura del garbi. È molto semplice, si comincia con lo scaricare l'applicazione da qualsiasi cellulare, dopodiché quando si sarà scaricata vi apparirà una schermata in cui vi verrà chiesto l'username che si trova nella seconda pagina della fattura ed è semplicemente il codice utente, dopodiché vi chiede di impostare una password. La prima volta sarà una password temporanea ed è il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza. Una volta messo questo vi viene richiesto di sostituire la password con una password di vostra sicurezza e a quel punto l'app è pronta per essere utilizzata. Un aiuto per i cittadini ma anche per i numerosi turisti. I proprietari di case vacanza piuttosto che di appartamenti nel centro storico potranno dare una tessera virtuale ai loro locatori, ai loro ospiti in modo tale da poter consentire loro di accedere o per un tempo limitato quindi nel periodo della loro permanenza oppure per un numero limitato di conferimenti a tutti i garbi della zona in cui loro risiedono.